Eccoci qui in un video ragazzi fondamentale perché siamo alla 36esima giornata di Serie B e manca veramente poco alla fine e oggi analizziamo la zona promozione diretta visto che mancano con la prossima saranno 3 partite mi sono segnato tutto il calendario delle prime 6 classificate in questa Serie B perché tutte le prime 6 ovviamente hanno tutti percentuali di salire in Serie A tramite la promozione diretta quindi è un campionato avvincente e lo sarà fino alla fine vi do qualche mio pronostico, vi dico ovviamente andiamo ad analizzare calendario per calendario, squadra per squadra e vediamo poi che somme tirare alla fine di questo video prima di partire però vi devo chiedere un pollice nel suo video e un'iscrizione al canale ragazzi mi raccomando molto molto importante iscriviti, è totalmente gratuito e lascia un bel mi piace per supportare i miei contenuti partiamo dalla prima in classifica che è la Cremonese con 66 punti che ha vinto l'ultima partita difficile che nascondeva insidie come quella contro il Cosenza per 3 a 1 e le prossime 3 la Cremonese affronta Crotone, Ascoli e Como sono 3 partite che nascondono insidie forse la prossima col Crotone secondo me è quella più facile anche sulla carta perché il Crotone dopo la vittoria dell'Alessandria e comunque dopo l'ennesimo passo falso fatto contro la Spal per me il Crotone è già in serie C insieme al Pordenone che con ieri è arrivata la matematica, l'aritmetica per la retrocessione ufficiale in serie B quindi secondo me la Cremonese a Crotone non farà più di tanta fatica e andrà a vincere quella partita poi la partita difficile la Cremonese ce l'ha contro l'Ascoli l'Ascoli è una squadra che sa vincere anche a Parma l'ha dimostrato nell'ultimo turno di Cortomuso vinto 0-1, una partita giocata molto bene dalla squadra di Sottil e quella per me è la partita che decide le sorti promozione per la Cremonese se la Cremonese vince con Crotone e Ascoli è al 99% in serie A Cremonese e Ascoli decide per me la stagione di Fabio Pecchia perché vincere contro l'Ascoli comunque in casa della Cremonese sarebbe un risultato troppo importante in vista anche comunque dell'ultima partita perché poi andarselo a giocare a Como l'ultima gara può essere sempre insidioso anche se il Como non ha più l'interno di questo campionato però comunque è una trasferta, è sempre difficile comunque il Como vorrà poi chiudere in bellezza il proprio campionato davanti ai propri tifosi quindi la promozione in serie A per la Cremonese secondo me passa nella partita contro l'Ascoli che sarà una partita difficilissima però la Cremonese se fa la Cremonese che abbiamo visto in tutto questo campionato può battere un Ascoli comunque di un altissimo livello di una squadra che merita il piazzamento playoff che sta raggiungendo quindi la Cremonese prima con 76 punti ve l'ho detto per me la sua stagione passa nella partita contro l'Ascoli secondo c'è Lecce a 65 Lecce a 65 con la sconfitta per 1-0 contro la Regina nell'ultimo turno una sconfitta che fa tanto male perché è una sconfitta che non doveva arrivare sono tre punti che ti vai a togliere di vitale importanza e ora non puoi più sbagliare il Lecce non può più sbagliare e la prossima partita sarà quella che deciderà le sorti promozione diretta per il Lecce perché andrà ad affrontare il Pisa quinto a 63 punti se il Pisa vince a Lecce il Pisa molto probabilmente va in serie A perché collegandoci anche al Pisa il Pisa poi ha Cosenza e Frosinone sono due gare difficili ma se vinci contro il Lecce a Lecce hai poi lo sprint giusto finale per battere sia Cosenza che Frosinone invece se il Lecce dovesse battere il Pisa il Lecce per me al 99,9% sarebbe in serie A tramite la promozione diretta perché andrebbe a 68% vincendo a Pisa poi ha Vicenza e Pordenone Vicenza anche lei manca veramente poco alla retrocessione in serie B in serie C vista anche la vittoria dell'Alessandria ieri contro il Cittadella e quindi Vicenza che poi avrebbe poco da dire in questo campionato in più gioca in casa il Lecce quindi è una partita importantissima gioca in casa il Vicenza però comunque cambia poco il Lecce se fa il Lecce a Vicenza vince con le pantofole quindi la partita di Pisa sarà una partita fondamentale per la squadra di Barone che se vince col Pisa per me in serie A perché poi a Vicenza va a vincere tranquillamente anche sull'ond dell'entusiasmo dopo un'eventuale vittoria contro il Pisa poi l'ultima Lecce-Pordenone sarà una partita che finirà tanto a poco per il Lecce quindi la stagione del Lecce passa dalla partita contro il Pisa se è sbagliata quella con la Regina non si deve sbagliare quella contro il Pisa perché se si perde o si pareggia contro il Pisa si mette a serio rischio la promozione diretta visto anche che il calendario è dalla parte del Lecce perché secondo me tra le prime sei squadre il Lecce è quella che ha il calendario più facile perché tolto il Pisa Vicenza e Pordenone sono due squadre abbordabilissime per una compagine come quella di Barone passando al Monza il Monza è terzo a 64 punti e affronterà Frosinone, Benevento, Perugia il Monza ha un calendario molto difficile per me il Monza è quella con il calendario più difficile di tutti subito dopo ci metto il Pisa però il Monza inevitabilmente ha il calendario più difficile cioè il pareggio di ieri contro il Brescia è un pareggio che ti lascia senza niente in mano equivale quasi a una sconfitta perché comunque non fai passi avanti in classifica il Benevento ti accorcia e il Pisa e il Brescia comunque ti rimane lì a solo i due punti e quindi è un Monza che dopo il pareggio di ieri comunque ha una brutta frenata e vincere la prossima contro il Frosinone a Frosinone è tanto difficile perché sappiamo tutti che il Frosinone in casa propria è una squadra che difficilmente viene battuta ed è un Frosinone che per l'appunto sta lottando anche per blindare l'ottavo posto per l'ultimo posto nei playoff e quindi il Monza la stagione del Monza passa da tutte queste tre parti deve cercare in qualche modo di vincere tutte e tre perché se no difficilmente arriverà tra le prime due contro il Frosinone potrebbe così arrivare una vittoria ma poi gioca contro il Benevento contro il Benevento giocherà in casa giocherà in casa il Monza e quindi comunque sarà una scontro diretto cruciale per i finali di stagione però comunque il Monza ha tre gare molto difficili anche l'ultima a Perugia sarà una partita molto molto complicata perché il Perugia potrebbe lottare fino all'ultima giornata per tentare il sogno playoff e quindi secondo me il Monza non la vedo così bene come vedo il Lecce e Cremonese analizzando il calendario e anche comunque il momento e quindi per me il Monza non farà 9 punti nelle tre partite che rimangono sicuramente 6-7 punti li può fare ma per me un passo falso tra virgoletto lo fa nelle ultime tre gare diciamo che se ieri avesse vinto il Monza avrebbe dato una grande carica e forse poteva sperare di giocarsi ancora un passo falso con Frosinone, Benevento e Perugia però pareggiando ieri è obbligato secondo me a vincere tutte le prossime tre partite così come Benevento il Benevento non ha più bonus deve vincere assolutamente tutte le prossime tre partite perché il Jolly si è giocato col Cosenza ci deve assolutamente credere perché comunque è solo a due punti dal Lecce secondo in classifica anche il Monza ha solo un punto quindi sono tutte squadre sono tutte squadre appagliate tu devi fare il tuo vincere tutte e poi sperare nel passo falso degli altri quelle che stanno sotto a Cremonese e Lecce che sono le squadre che momentaneamente andrebbero in Serie A quindi Benevento anche le deve fare il suo affronterà Ternana, Monza e Spal un calendario comunque difficile giocare contro la Ternana non è facile ve lo possono garantire tante squadre anche se comunque Benevento gioca in casa e in casa può fare comunque un buon risultato però la sconfitta a Cosenza pesa ancora perché con quella vittoria il Benevento sarebbe a 66 e sarebbe secondo e sarebbe primo insieme alla Cremonese quindi una sconfitta che pesa tantissimo nella stagione del Benevento che adesso deve andare con la Ternana per me può vincere tranquillamente anche se comunque sarà una gara complicata col Monza è uno scontro diretto e si giocheranno lì entrambe le squadre le sorti del loro destino e contro la Spal l'ultima giornata è una partita che comunque il Benevento deve vincere giocando anche in casa e concludendo al meglio un eventuale regular season e poi magari che ne so sognare un festeggiamento finale con il raggiungimento in Serie A comunque il Benevento sulla carta ha un calendario abbastanza facile ovviamente così come il Lecce si giocherà tutto nello scontro diretto contro il Monza non questa giornata ma la prossima quinto c'è il Pisa anche lei ha 63 punti Pisa che affronterà per l'appunto il Lecce e così come ho detto con il Lecce le loro sorti di questo campionato si decideranno nella prossima partita che sarà cruciale per entrambe ancora di più per il Pisa che con un'eventuale vittoria scavalcherebbe il Lecce di Baroni e poi andrebbe ad affrontare Cosenza e Fosinone sull'onda dell'entusiasmo sapendo che comunque sarebbero due partite di vitale importanza quella in casa contro il Cosenza per me il Pisa l'andrà a vincere senza grandi troppi problemi l'ultimo a Benito Stirpe potrebbe veramente riservare grosse sorprese perché vincere l'ultimo a Benito Stirpe è molto difficile considerando sempre un'eventuale Fosinone in lotta per i playoff e quindi Lecce e Pisa decide assolutamente la stagione di entrambe le squadre e poi il Pisa vedremo quello che succederà però comunque contro il Cosenza per me arriverà una vittoria contro il Frosinone all'ultima sarà una gara molto molto difficile però ovviamente anche così come per il Lecce il Pisa decide tutta la prossima partita contro la squadra di Baroni per il Lecce mi sono sblocciato un po' di più perché il calendario va molto più a favore per il Lecce rispetto al Pisa perché non augurerei a nessuno giocare l'ultima partita contro il Frosinone in casa del Frosinone una squadra che difficilmente perde punti in casa Sesto infine c'è il Brescia a 62 punti forse il Brescia è quella ovviamente più indietro a livello di punti però potenzialmente solo a meno 3 punti dal Lecce secondo lei dovrà vincere assolutamente tutti e tre per me il discorso sul Brescia è molto molto facile deve vincere assolutamente tutti e tre giocherà contro Spal Cittadella e Regina e il Brescia sulla carta può fare tranquillamente 9 punti con la Spal deve vincere senza troppi 6 senza troppi ma giocare anche in casa quindi ci sarà la spinta dei tifosi contro il Cittadella in casa del Cittadella deve vincere facendo una grande prestazione perché non sarà comunque facile il Cittadella vorrà onorare questo campionato e l'ultima contro la Regina in casa del Brescia il Brescia è chiamato ai 3 punti se il Brescia le vince tutte e tre e poi non sarà in Serie A a livello tramite promozione diretta non potremo dirgli niente perché comunque il suo l'avrà fatto perché con 3 vittorie su 3 sarebbero 9 punti e quindi sarebbero 71 punti e forse forse con qualche passo ovviamente con qualche passo falso ovviamente delle altre potrebbe sperare in un'eventuale promozione diretta sarà molto molto bello così come molto molto avvincente è difficile tanto sbilanciarsi per me si potrebbe rimanere tranquillamente con secondo me Cremonese e Lecce potrebbero rimanere prima e seconda ancora per qualche giornata però il Benevento non è da tenere sotto d'occhio sarà cruciale Lecce e Pisa se il Pisa vince Lecce per me va tranquillamente in Serie A e sarà veramente un gran finale di stagione da godersi tutti assieme mi raccomando pollicione sul video iscrizione al canale noi ci becchiamo a un prossimo video bella ragazzi